Gentili telespettatori, buona giornata. Enrico Letta è a Siena. Suo malgrado deve far finta di fare una campagna elettorale. È lì per un posto in Parlamento. Si libera un posto, lui va lì per fare una sorta di campagna elettorale, anche se non ci avrà nessuna voglia, ma deve far finta di lottare per quei 13.000 euro di posto in Parlamento. Al mese netti. Ma il segretario del PD dice se perdo qui lascio. No, caro Letta, non dirlo neanche per scherzo. Non puoi lasciare il PD e la segreteria. Tu sei la garanzia vivente della disfatta della sinistra, dell'insuccesso. Sei la garanzia dell'insuccesso della sinistra. Non puoi andare via, perché ogni sera Salvini, Meloni e Berlusconi si addormentano tranquilli, cantando Menumale che Letta c'è. Perché Letta, come vi dicevo, è una garanzia dell'insuccesso della sinistra, perché con le sue fantasiose 29 priorità, tutte indirizzate al suo partito, ai suoi progetti, niente per gli italiani, non ha progetti, non ha proposti di economia, nulla. Lui ha fatto 29 proposte campate per aria. Adesso si è fissato con lo Jussoli sportivo e tutti alleati nel suo partito si sono guardati negli occhi e hanno detto che non è possibile. Ma ancora? Allora nessuno ha avuto il coraggio di dirgli che devi proporre qualcosa per il paese, le priorità. La priorità non è lo Jussoli. Ma lui dice vi vigileremo. Ma su cosa vigileremo? Se perdo qui lascio. No, non puoi lasciare, perché sei una garanzia del fallimento. Lui dice riguarda centinaia di migliaia di ragazzi che sono italiani a tutti gli effetti ed è veramente un delitto per il nostro paese non dargli la cittadinanza. E mi viene in mente il Letta che ha cercato di prendere 4-4 milioni e mezzo di voti dicendo ai diciottenni vi diamo 10.000 euro. Sapete che i diciottenni fino a 25 anni potevano votare solo alle elezioni per la Camera dei Deputati, perché per il Senato si votava dai 25 anni in su. Da poco è passata la legge, dalle prossime elezioni anche al Senato potranno votare da 18 anni a 25. Non solo quelli dopo i 25. Allora lui ha cercato subito di prendersi questi 4 milioni e mezzo di voti facendo l'offerta, no? Diamo 10.000 euro ai diciottenni poverini in cui con questo Covid hanno sofferto la DAD. Dice cos'è la DAD? La didattica a distanza. Poverini ma come... ma che roba no? Ma che roba! Come hanno sofferto a casa col computer? Letta non immagina neanche quanto sono stati felici di poter stare a casa con la televisione e con i videogiochi. Però lui dice che hanno sofferto, bisogna dargli 10.000 euro. Eh, dice i grillini hanno circa 4 milioni e mezzo di voti, comprati praticamente con il reddito di cittadinanza. Dice se io faccio il colpaccio e convinco tutti quelli tra 18 e 25 anni a votare per Enrico Letta il PD dicendogli gli do 10.000 euro, allora quando è venuto fuori lo Jussoli, lo Jussoli sportivo ha detto guarda un po' che Letta stia cercando di accaparrarsi altri voti. Mi viene un po' di dubbi. Jacobs, sottolinea Letta riferendosi alla dichiarazione a Il Foglio in cui il campione olimpico afferma di non essere interessato al tema e di non voler essere lo strumento di certi politici. Lui dice ha detto ciò che è libero, sentite eh, ciò che è libero di dire ma non cambia di una virgola la questione. Jacobs è un cittadino italiano dalla nascita e lo Jussoli non ha a che fare con casi come il suo. Infatti lui è cittadino italiano riconosciuto dalla nascita perché la madre è italiana, quindi lui è italiano a tutti gli effetti dalla nascita con passaporto, carte di identità e residenza. Quindi Jacobs non c'entra niente però è diventato il simbolo. È nato in Texas, poi è venuto in Italia. Letta si dice ben consapevole della forte complessità di questa vicenda ma dice la legge sulla cittadinanza è un grande cambiamento per il nostro paese e il PD sarà all'avanguardia e si farà porta bandiera di questa battaglia in Parlamento e lì sono sicuro troverà consensi alleati per lenderla effettivamente una legge. E beh lui poi è lì per difendere il seggio di Siena, 13.000 euro netti al mese per 12 mensilità. Poi c'è il problema delle banche, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit. Dopo 549 anni rischia di dissolversi. Beh questo è un tema abbastanza complesso ecco. Dice Enrico non mollare bisogna vincere, gli dicono, gli dice qualcuno la base Dem. Gli urla più di un sostenitore. E poi a sera accolto a una cena di finanziamento i 300 presenti lo accolgono sulle note di People have the power. Mamma mia che tristezza. Mi si infonde tutta una tristezza, no? Accolto sulle note di gente che ha pagato per andare a cena dove c'era anche Enrico Letta. Enrico Letta avrei mangiato tutto per far contenti quelli che hanno pagato per sovvenzionare il partito. Che tristezza infinita che mi si infonde. Però comunque intanto mi trovo, dice, a fare una campagna elettorale e chiederò il voto sapendo che facciamo parte di una maggioranza atipica, eccezionale, unica. Per quanto ci riguarda è la prima e l'unica volta al governo con Salvini. Se la soluzione Unicredit è la migliore per MPS, beh, ho fiducia negli impegni che il ministro dell'economia, Franco, si è preso pubblicamente in Parlamento. Vigileremo passo dopo passo. Mentre il cane del vicino continua a darmi fastidio, abbaiando. E certo, lo lasciano sempre fuori tutto il giorno, sempre giorno e notte. Bah, non lo so. La gente compra il cane perché ce l'hanno gli altri, no? Perché se non hai il cane non sei nessuno, no? È un po' come se non dici Green Pass e se non parli inglese non sei nessuno, eh? Se non hai la palma in giardino e il cane non sei nessuno. Questo è il caso di molta gente, no? Vabbè, a parte questo, divagazioni sul termine. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video qui su Teleitalia, tra una ventina di minuti. Siamo anche su Teleitalia Seconda Rete e anche in Facebook dove potete condividere i video che trovate lì. Io dopo qualche ora li condivido anche su Facebook. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.